Sì, ma non finirmela Cazzo, faccio finire Ah, piuttosto, sei un pochino bruciata con il caricatore come sempre Mi saprà un pochino di bruciato Sì, ma se Mimmo sta finita l'altra Sebbe carino me la riportasse un giorno Che via, sai Beh dai, non credo te l'abbia finita Ma vedi Cioè, abbiamo contro una Wey Emerald Darius Gold Ash Gold Sfortune Platino Ma un mischione Eh no, è normalissimo Ah, è vero, perché tu sei col Con il principale Ma certo, perché io Attore io sono col principale Se ci siamo Ci sei? Ci siamo Ci siamo Siamo pronti? Minchia Minchia Sei caldo? Sono riscaldatissimo Sono riscaldatissimo Sono caldo Sono caldissimo Sei caldo? A un metro da me Cosa? Non ho capito un cazzo Meglio Cos'è sta roba? Cosa? Ah, è la papera Questa Hai visto la papera? Sì, no C'è la, hai qua la papera Ma sono live Tu non hai la papera Andami un attimo Andami un attimo Che dovrei vedere Sono live Sposo, pronto Boh Boh In teoria sono live In pratica è sul telefono Me la fa vedere Ottimo Bello Ho sbagliato a cliccare Sì, così Ma magari non è neanche una scelta stupida Se l'avesse usata Esatto E' puro una Eda Sarà meglio E' puro una Eda Sono simpatico Minchia Eda, sono simpatico Sì, sì Sei molto simpatico Mico mio Ah, madonna Che meno Tu continui a fare quello che stai facendo Attento i minion Eccala Maio Andiamo su Ashe No, scherzo Abbiamo una farm Sì Ula E' fatto gol Complimenti Ok Vabbè E' male che c'è un guardian Manca Anche quello lì L'ho bordato Tanto il nostro jungler Non mi dà grandissime speranze Buono Questo è positivo Questo sa di fragola Sì, sì Fruttoso Frutto 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 Ha finito il mana Comunque quella lì Che pericolosa Che pericolosa In questo momento Che mi sforzo Se sopravvivi è worth Il problema Il problema è sì No Minchia di farm E se mi sono messo bene Non fa niente Fa niente Siamo sul pezzo Siamo sul pezzo Arrivo No, non è vero C'è una wave enorme Sì Devo arrivare Devo arrivare Meglio che mi sono Per i cazzi miei Oh, l'ho ucciso Grazie al drago L'ho stannato Con il drago WTF XD Beh, in realtà Avemo una wave Oltre più grosse Sarà loro Quindi Ora possiamo cazzeggiare E ora sto slowpushando Come? Ha pure meno farm Buono Buono Ho preso i soldi Da una distanza incredibile Ma l'abbiamo presi Basta, basta Continuiamoci Oltre più Occh Nacuno potevi farla? Vabbè Finché sono danni C'è Perché mancano La cosa buona è che se dal 6 iniziamo a distruggerle Eccala Mi sto pushando Fai le tene occupate Ah appena ultato mi sforciano Mi ha parato metà ult Se vi col coso ci vado Buono Penso di dare una notata con in più Però loro hanno il cannone Non fare W Eccola qua Ci siamo Ora Eeeh Beh io mi sono fatto le scarpe Già finite Sono scarpe anti Anti Briar ci vuole andare Ma noi siamo lontani A me F non ha mana Goal Ok buona Vabbè morta il sanguinamento Buona Ha cercato di lasciarmela Briar ma Non la vedevo più Vabbè Comunque possiamo anche Slow pushare Va a seconda voi Ci vado anche io di aggressività Almeno se lo aspetta E ci vado No Luca Urco 2 Abbiamo avvantaggi Di minion Infatti Infatti magari tilta Tiltata Io avevo già il cleanse pronto Per la ult Di S Sì Dopo il life stilare Non ci vivo ancora di più No 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 Mi vado a far culo io Perché non arriva a Kzx Faccio finta di aver scritto in all chat Ma in realtà Sbagliato In realtà non è vero Buona Buona Ma lei la fa completamente a caso Però funziona Nice Sì Ma dovreste farvelo Fammi fatemi pushare un pochino Fatemi cedere Arrivo Ula Oh ci c'entra E ci vado Nice Però me lo faccio dare da solo io Quindi ciao Sempre bello quando si fanno questi fight così Con Samira È completamente gratuito Facile Veloce e gratuito C'è un sacco di sauce C'è un blu C'è un sacco di sauce C'è una marea di sauce C'è una marea di sauce Ma io Nooo Tranquillo Io ho trollato io Me ne prendo la responsabilità Ho trollato io Mi metto un pochino a piangere ma Che ci si deve fare Figa Mid Au Arrivo a mid Certo che narra Ma quello lì per l'altro Ha levelappato come prima cosa La ulti Andiamo giù Bravo It's fortune Siamo aggressivi Mi sforzo dentro il cospuglio lì Prima finiamo qui Prima andiamo ad aiutare gli altri Quindi Sparato un pochino a caso Ma non importa E la la C'è tu Sugli amici Eh però figa Io sono solo Porca miseria Eh sì Eh ma Per un attimo Ho usato il cleanse Invece della Q Alla W Non sono riuscito a fare la E Ho sbagliato avanti cose Nella mia vita In generale Sì ma Ari se ne è accorta Sì C'è la ulti La nostra torre è morta Da loro no Come sono messi loro Toplane Toplane mi fa moltissima paura A nostro mar A dire la verità Non so in che modo Nar riesce A perdere contro Un juggernaut Anche perché Nar ha fatto apposta Per vincere questa lane Però Non usciamo hard Uh zio Non aspettavo LOL Ci ha provato Si fai la Q Molto vicino ma Attenzione a questo minion qua Che Fa la Q Che Beh 1 e 2 Comunque Si morde pushando C'è anche la sua amica C'è anche Ash Aspetta No Volevo fare l'eye sul Grom Per arrivarci Sarebbe stato molto figo Te lo devi immaginare però Sì Ci sei stato di bravi Good job Sì Swag Sufficientemente buona Wave Comunque Emerald 1 5 3 Briar fidata Ari fidatissima No Se vuole non essere immobile Ah immobile per quello Pensavo Pensavo fossi arreso No vabbè a caso Eh pensavo ti fossi arreso Eh infatti non capivo Io vorrei essere Eh sono la botterina qui Sì 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 Brian Sì 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 Vabbè Lasciamo perdere Narre è abbastanza Imbarazzante Tu sei fottuto Se fai la Q Magari no Oh Oh Zio Fa sempre ridere Vedere la gente che ti segue Anche perché il ghost dura Circa 25 minuti Eh me la son giocata male Posso giocarla meglio Sicuramente Minchia Ho usato Presa No Quelle 5-2 euro Sono tutti top Anche quello è vero Questo è molto problematico Me ne pusciamo hard Se lei ulta Un classico per togliere i minion Visto e visto È in base Ma voglia Faremo uno Ok se c'è anche la compagnia Certo devi prendermi però No andiamo via Andiamo via Viene da me Sono qui ad aspettare Tra poco mi arriva la Kzix in bocca A me Ma se lo baitiamo Anche way off Sei in una buona posizione Potremmo abitare tutti quanti Potrebbe esserci tutti Però se si avvicina Tu metti Fai il toodle Eh? Fai il toodle Let's go Qua non ha senso Non ha senso Fai se cercando No C'è anche Ice Flash Fai niente che sanno Tanto non può farmi niente Ok buono Ula Non credo che sia una buona idea Sai in realtà Anche perché c'è C'è Esatto Non dovevi forzarla Ma che faccio da pure basta No è la ulti Pregato che per tutti quanti Hai voluto seguire Esatto Mille golpa via Eh lo so Vabbè ma se tu fai la ulti Ovvio che Se uno segue Quanto o cinque persone C'è qualcosa che fa Non lo so Non era una bella ulti In quel momento Buono Almeno non possono farsi Baron Ma Evocato Allo tanto Tutti quanti Stanno iniziando a fare Un pochino a loro C'è quella Ice Che non è né carne né pesce Ma purtroppo funziona Ma perché non mi trova mai da solo Andiamo su quella Ice Fortune Né continuare a pushare Bots sinceramente Sto continuando a fare Comunque un sacco di soldi Farmando Da spaventarla ma Sì Pusce la wave Che c'è anche Il cannon E' da sola? No C'è Kasex Prato è la ulti app A breve Bravo Buonissimo L'ho preso io Sì Kasex? Kasex deve avere paura di me Non è il contrario Fucking die Cos'è successo? Che lei non ha smaitato Lui neanche Ho preso io il drago In dubbio Di il mio nome Kurunaeda Hai maledettamente ragione Più di così era difficile Comunque 2500 gold in tasca 2750 gold in tasca E' NAR che non sta facendo niente E' inutile Non ho ben capito Perché si è fatto la trinity Non so neanche NAR sinceramente Non lo vedo ora sempre Quindi non Anche perché è un counterpick Lo prendi soltanto in presenza Di qualcun altro Stato Incredissimo Mio 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 Ottimo scorto Ok Ho fatto un po' dei bei danni Si riuscita a far fuori quello lì Non riesco, no, è niente Oh no, invece è morto il sanguinamento Mamma mia Sì, sì, sì Aria ancora la ulti up Ci ha armato Nice Ari Un po' too much Cioè ha flashato dentro Volevo isolare Darius Non l'ho preso per un millimetro Aria ha trovato Non so cosa stesse facendo Ma non l'ha fatto bene Se ne riesco a isolare anche da Arius con la ulti va bene Vabbè Arius si accorta che ha fatto male Ok, preso il red Faccio del male forte Vale Ci va? Su, su, sinistra Ok Nice Dario Non è niente Ari è sempre via Non so perché Ari è sempre altrove E ora mi sto finendo il Stato bravo infatti Non ho idea Versi un po' di vigno E mi finisco ora al Lord Dominic Tu hai di Darius TP? No Io ora mi faccio Ultimo oggetto mi faccio una bella Guardian Angel Così se Darius mi fa le Sfiga di quanto non ho preso Darius Scuso tu, tra le lui Si è attivato un attimo Se moriamo così come degli Bastardi in effetti è un problema C'è anche quella lì Lasciaglilo Sto appunto il drago Non è neanche il soul Riusciamo a prendere Mediare intelligente? Bene Non è neanche il soul Non era neanche il soul Non è neanche il soul Abbiamo perso 5 a 0 Per 5% out of combat moving speed Succede ma non più Perché altrimenti il game è andato Darius io Non riesco Se la carri Ringraziamo che non ha fatto l'ull breaker Death now We're deep in shit Che ora siamo nella merda Ari Ari non ce la fa Non ce la fa Ari Sì ma Puoi essere fidati a voi Ma come al solito Se fai cazzate Poi Il bot Andrà giù con la torre Però Via 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 Basta 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 Sono morto Sono morto molte volte Quindi non posso pingarla Devi fare attenzione Cazzo Non ho sempre questa cosa qui Non lo sapevo E' proprio perché c'è il mondo Io vorrei che fossimo tutti quanti qui Io Vieni qui Vieni qui Dove sei Lillon A fianco Lash Bisogna prenderla con la Q Beh non ci vedeva però Cosa che ero interessato Ormai Però se ti ulta C'è ancora C'è anche Briar Non sapevamo dove va Darius C'ha ultato Darius Darius Si 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 allontanano tutti da Darius Forse forse No Si vincostrano tu e coso Lascia perdere Tanti si sta andando a suicidare Perché non so Di cazzo sta scappando Per di là Non so cosa stia facendo Però magari si Se porti dietro Non lo so Non lo so Sto sfruttando che è un problema Questo Darius Tipi top Col Darius è davvero un problema Ci dà anche sotto torre Quello lì Quindi devi fare attenzione La cosa buona È che non è che si Ha ultato Drier Ma è incredibile Ma vuole avere A volte le prendo Dai Ma ha ultato Quattro secondi Che fatica Questo è il soul point Bella ulti Non ho paura di Cazzox Ho paura di Darius Dovano splittare In realtà Sai Per il team fight Vincono loro Qualsiasi che non lo so Perché non abbiamo mai fatto Un vero team fight Sono sincero Per l'anima del drago Il vento Fuori Non è non sta niente avevo danni abbastanza sto morendo quel turnway ha iniziato a fare danno a casa in realtà 8,7,16 complessivamente credo che sia messo bene o male come la nostra ari con la differenza che la nostra ari fa la botta l'enemica distrutta fa pensare ma ari cosa sta facendo mamma mia se li stanno i lillo ci vado porco dov'è più di cose che non posso fare prultato e ha in quanto corre stiamo giocando mi sa che è lost e non riuscito a fare un pic su darius e fare un 5v4 UGVP buongiorno Kuro comunque come va caro? ciao ciao Manu come stai? sto bene sto bene dai siccome volevo avere la sera libera ma era da un pezzo che non streammavo e per lunedì suetamente streammo allora ho detto facciamolo oggi pomeriggio poi sono qui con il mio amico il mio carissimo amico in LAN eh? in LAN esatto è lì letteralmente non lo vedete ma si sente si saluta? si sente ecco comunque si la vedo un po' male siamo entrambi con qualche cosa con un bicchierino che viene in corpo quindi abbiamo quell'extra bonus di cazzimma non so e quel darius gli da una marea di problemi poi ari è sempre fuori posizione io posso anche provare a isolarlo il problema è che poi si torna poi dopo la mia ultima no ma il problema non è quello il problema è che ari da una parte l'altra dall'altra siamo sempre io e te assieme e non c'è più la ulti aia non ho mica quanto corre ok ok ho dovuto flashare per fare quella cosa non so se ne è valsa la pena che male ma il cilarius dice che son fottuto forse no oddio e vabbè di più mi sa che non potevo non dovevo neanche essere lì per un attimo per un attimo sono stato sono stato bene un attimo pensavo di averci di averci scappato mamma mia che palle giocare contro i tank contro i jugger no più che altro i tank sono ecco perché briar deve ultare briar ulta il potere della ultima oddio se lo fa se lo fa briar che vince che se li fa tutti se li fa tutti no è morta è morta di mal di pancia tu ancora la ultima comunque il baron non se lo fanno più se si concentra riesce a fare un charm su darius poi lo sciogliete sì anche perché darius si è buildato praticamente soltanto armor dita in realtà poi armor da tutti i vari oggetti che gli stavano per correre cialli merc trez vai se proprio vogliamo eh morire meno il minion anche se gli ap carry lo fanno un pochino meglio degli ap carry il clear ma e voilà che cosa mi fai lo zecke? no un knight's bow il prossimo drago è l'elder questo chi lo prende vince a prescindere poi face check ha con coraggio che non so da dove lo prende non so da dove lo prende non so da dove lo prende ma però ormai sanno che siamo qui quindi se sono me se vendi le scarpe prendi la death dance vinci tutti i fight non lo so mi serve essere mobile ho dovuto usare la doppia v ok uh uh Darius a parte vai Darius Darius Maris eh quella lì è così la dovuta ma non solo me però no cosa fai Dari cosa fai? porco due eh stavo cercando di rifullarmi stavo pensando a ventimila cose che potevo fare nel frattempo eh sono ho trattenuto l'hai per troppo tempo volevo tenermela per e ora cosa? e ora che vivo? tutti praticamente l'incredibile NAR riesce a ah no non l'elder? sì io ho ultato l'is fortune e la ulti è sua continuata hai ultato l'is fortune la sua ulti è continuata? mi sembra di sì mi sembra però non è legale avete visto anche voi ragazzi per caso io non ho controllato benissimo perché stavo pensando perché qualcuno aveva fortune e l'ho tolto e la turn è perché mi sono posizionato male no ci aveva questo cos'è che aveva? ah l'edge of night ecco perché perché sì confermo ho continuato non senso eh però con l' no non pensate hey guys come play e ha anche torre ma che torre temprei non è veramente l'era io don't like secondo me dovremmo fare un pick vediamo l'era c'è l'elder e l'elder esatto tranquillo che le torri non gliene frega un cazzo non so dobbiamo aspettare che gli finisca uno dei due non prenderne uno alla sprovvista e ucciderlo l'elder è peggio del baron assolutamente sì l'elder è finito posso usare gli scherpini forse non buttiamo mobility non è una cattiva idea ma ci sto pensando ok 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 focus non lo struccio di voltare ok ho fatto anche la delle ulti recente chi sono i chi arrivivi? solo ari oh boy ari ha fle team difference top difference per questo momento no vabbè ma non avevo soldi non avevo soldi per fare questo cambio mamma mia da ari top difference bel flash ari si lasciamo perdere piaciuto il flash di ari? lasciamo perdere lasciamo perdere beh vabbè all'acchi 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 processione oh e ora sei platino 3 vabbè momento di risalire allora dai che se la facciamo comunque ha fatto top damage che ha fatto top damage? poi te e poi darius darius ha fatto meno danni di me? ari? ari ha fatto quasi danni di ari fa pensare ma fa anche riflettere ma fa anche pensare ma fa anche pensare fa anche ridere ma fa soprattutto pensare eh cosa facciamo? adicari support? eh cosa dovrei fare? non lo so sto pensando Samira sto pensando tanti champion ma Samira non è che non funzioni è sempre così la situazione eccoci qua Samira è buonissimo come champion semplicemente non è vain non è vain nel senso che non posso pensare di uccidere un darius io c'ho tutto il resto è un assassino Samira se posso voglio vederlo così ti spai? ti diverti? Camille a Cali dovrebbe essere una Calinostra decente un buon assassino che Roma dai a Roma dai a Roma abbiamo Brand Joongla e quindi che cazzo vanno facciamo Brand Joongla sai che non è un pick che vedo raramente? ti fai a favore anche io dovrei farlo devo piccarti il champion tu sei primo oh boy hanno bannato Bard hanno bannato Bard no 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 Perché Bard Samira e non Nautilus Samira? Perché a me piace un sacco giocare Samira Lui piace un sacco giocare Bard Paix Samira che è broken Sai che io odio avere... Ah Sai che un tronocchio è un nome... Non state scendere Dovrebbe essere finita la pubblicità Dovrebbe essere finita, giusto? Mi senti? Nami Lushan Tosterella Nami Lushan hanno Toste Ok, ci sono Il motivo per cui giochiamo Bard Samira E non Pike Samira Nautilus Samira Giù di lì Perché Pike l'odio come champion L'odio sempre Ma l'idea principale per cui non mi piace Cioè noi giochiamo Bard Samira Perché a lui piace giocare Bard A me piace giocare Samira That's basically it Lui se la cava molto bene Con Bard Mi pare di chiamarvela bene con Samira Quindi No, di malinteggio No, noi abbiamo Darius Ottima argomentazione direi Io ho un po' paura per quella Nami perché Bordino non ha niente Vabbè, come al solito Un po' di mischione Platino Gold Emerald Massi Quale se vedi che è Smurf Perché c'è al bordo del livello 30 Sì, mi spaventa un pochino Vado anche io un attimo in bagno Più no Non te lo merito Adesso diciamo che tu giochi Bard Qua e giochi Samira No Più no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, sì, io ricordo che l'abbiamo buffato, mi ricordo che in generale veniva giocato e che non ho idea di come sia. Aiutiamolo un po' tanto, va. Lo dariamo un pochino di più, me lo prendo anche. questa battuta potete dire il nick di Nami guardo PGG si chiama No More Oxy Please No vediamo anche il l'informatore non giungo le forti, ma tutti quelli che ho trovato hanno preso rigorosamente, no completamente il cazzo quindi non dà di trova fiducia purtroppo quello abbiamo quello ci teniamo non ho due loro ora iniziano a rompere i coglioni tutto il suo il timore che poteva avere non ce l'ho più ho due anch'io mi sta attracchettando il mio è infatti vabbè, un classico siamo indietro di minions stanno sempre verso l'alto come se ci fosse qualcuno non lo so ma chi sta mirando di preciso? no non mi merito più di essere chiamato ad carry sono soltanto a D che dolor baito ok direi che abbiamo baitato grazie grazie ha pure paura rimanerci sinceramente eh? ho paura rimanerci sinceramente Oddio Con i danni che gli hai fatto Un po' di fiducia ce l'ho Ci torna Round 2 Oddio Eh, andrò lontano, mannaggia Meno male che tu esisti, Lillo Bravo Sono le palle al posto delle tonsine Ah, le palle al posto delle tonsine mi piace Ah, sicuro non c'è dubbio Ho appena fatto una cosa che non trovo mai È un tipo che non gioca da una vita perché ha la PFP di quando è uscita Kindred Ah, minchia, c'è la profile pic di quando è uscita Kindred Sta nami Vogliamo darci super aggro? Se si avvicina? No, me ne vado a fanculo No 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 Tutto il tuo super aggro Perché non ti fidi del mio super aggro? Perché sono dieci anni che lo fai e sono dieci anni che termi Adesso ha due win e due loss Con equip participation bassissima E vice un score molto basso, è scarso Bene, devo dire che una nami fa cacare contro Beh, le culo ne ha presa una Beh, io di farm sono indietro ma di kill sono positivo Ma male Top, stanno giocando un gioco a parte Non stanno più farmando Ma io comunque c'ho il red quindi Mi sa che trade Grazie comunque Manu Ma perché dove non c'è nami? Esatto Ah, eccolo qui Ah, eccolo qui Non c'è nami Ah, non c'è nami, ho capito Dai Il manga immobile mi fa la Q Cosa mi fa? Mi autoattacca? Io lo do Pia V E poi c'ho il red Non ce l'ho più Ok Forse sono stato un pochino troppo gradasso Non approfitto che ti addo delle amici Tanto che non c'è ancora Certo Ehm Mandami tu il Il coso perché mi sa che ho la richiesta delle amicizie piena Mandami tu il tuo Il tuo di Nick A fine partita ricordamelo Che sennò Sì 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 Ma vogliamo andare su un'ami che lei pensa di non essere vista? No Merda Ho fatto la E ma ho visto che ero cleanse Ho fatto cleanse troppo tardi Se no ho fatto cleanse E sul minion Non dovevi neanche dirlo Non avevo già capito Bello quando si ha Ecco dove lo facciamo andare Ecco Beh c'è la N La N Manu Manu La N è lunghissima È il pipo quello lì Non si scherza Non ho farm La N speciale era già presa Eh lo so lo so Non ti preoccupare Ne sa qualcosa signor Cosmic Bind Quello con la dieresi Per capisci Cosmic Bind è la Q di Bard Un neurone in due facciamo Oh io sono al 6 eh Sono al 6 Everybody's gonna get old Cause everybody's gonna get old Stiamo un po' tonti Perché? Perché hai paura di Hai paura del Dell'uomo delle tenebre Vai No non c'è un minion indietro Grazie Questo è lollo Questo è lollo Questo è lollo Che io Io uccido per sbaglio Il minion dell'uscita Il minion per uscire Mamma mia E lui mi fa comunque Sopravvivere E quello stun Il stun mi era piaciuto Questa volta è stata Una delle ultime più belle Sì Perché quelle brutte Meglio che non farle vedere No Perché o rimanevi con l'uno di vita O nel dubbio Ho detto vabbè No 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 Hai fatto vabbè Eh andato è gratis Soup gap direi Troppo forti Eh Oddio Ah Aspetta No niente Vabbè C'è stata un po' una differenza Ma sai mi sa che mi faccio le Merc Threads Perché hanno una mare ADCC Però non ho anche tanto AD No Boh Macali C'è andata dentro Si è fatta Si è fatta giocare come un Punto di domanda Ti ha preso Su bullshit Eh penso Adesso vedi che flamato No 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 Gli dico che è stata comunque brava Così dice Sì è vero Sono brava Non ho anche guardato cosa hai fatto Ho visto poco Ho visto poco Perché avevo la testa da altre parti Anche perché porca miseria Il vino che porti tu E dà la testa in tempo zero No Ancora no No Anche io Sconcentrato lo sono anch'io però Si è sicuro Lucia? No ecco Che miseria Pensavo di prenderla con la W Sarò sincero E mi ha fatto cazzate Oh no Scappi scappi Oddio C'è Brand? Brand ulta Brand fa double? No Mamma mia Brand dalla kill Meno male Ti hanno un po' esploso No 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 Ma ho sbagliato io Ho sbagliato io Sono tutta ulti Eh sì 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 Ma sono creduto un pochino Eh però è 4 o 2 Eh sì perché hai dato due kill Due kill le ho date io Due kill le ho date Che nu stop ganking As Posso dire Cioè Cioè Se non ci rende la lamp È difficile di quello che Già è Perché comunque Nami Nami Lucian È famosa per essere Una delle linee più forti Di League of Legends In bot lane Ok Oh Non ci serve una gank Aiuta a Mida Aiuta un altro Farma Poi arrivi nei fight E ulti Ti farei quello Ok C'è Lucian Ok Ok Buon Ok Potevo evitare Di fare la doppia roma Non è solo di me Mi sa che Manu Ha ragione Ehm Brangangle è forte Ma Prendono spesso il cazzo Devo prendere Le bacche Mamma mia Manca l'esistenza Da tiltare Ok Peccato Quanto io di nuovo la W Tranquillo Ok Ci crede No Focali Ad un move down Ok Sono molto carini L'uno l'altro New York Rizzo Spaventati un po' Ho preso i bidonini L'oro Ok Boom Fatti un attimo panicare Scherzi Sì Scherziamo meglio la C Anche perché non è molto mano E ho un sacco di soldi Non avevo la ultima Dai Lillo Scappa Sì 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 Ma sei il maestro della fuga Sai escape artist Tipo quelli che si fanno le gare Sott'acqua I macchi Udini Bardini Udird No Quello è un altro champion Vedete Avere due schermi è fortissimo In questo gioco Le voltate non ha ucciso Che coglione Non quasi tanto Allora Sono pure sopravvissuto L'ultimo in occhio Schiliscio su Anche di tanto L'uscio non stava recollando Coglione Gli ho tolto il recoll Ora Mi sa che lo costringo Ora Pusho Su per Lo costringo a ripiegare Sì Il veleno Lo costringo a ripiegare Citazioni di spessore Ha ultato Ha usato anche L'altra abilità In realtà Tu hai la ulti Riesci isolare Lushan Cioè Mandare via Lushan Namix perché la ulti Fortissima Sì sì Ok Fa niente Ok buono Brand Cosa cazzo fa Oddio Ok forse Distrae Sì ma ci sono i minion Non so cosa stia facendo Se ci arriva addosso È incredibile È incredibile Questo brand È riuscito anche a morirci Ha ultato l'aria Sì Siamo in trasmissione Ciao Sono fissuto il drago Loro Riusciamo a vederli Vedere che hanno fatto il drago Sì Perché posso farmelo È 6-2 quello là Non l'ho ancora Contronto a comprare Ti ricordo che l'ho boccato Il raccollo Boh Non c'hanno più la torre Vai Sì Niente Niente Ho dovuto farlo prima Ah no Dovevo andare bene via A far culo prima Brand cosa sta facendo Ripreciso Non voglio Non che non sia colpa mia Ma nel frattempo Brand cosa sta facendo È sempre un po' Una mia domanda Che permea Top comunque sta farmando Molto di più Darius Spero che Io comunque ho finito L'Infinity Edge Ho fatto un bel saltito Di qualità Io ho detto Stop ganking bot Questo qui invece È in direzione bot Lui non ha l'Essence River E ha finito il mana Quindi Sto arrivando Impiegando il mio tempo Anche il suo autoattacchi Certo che fa male Non sappiamo niente Adesso speed pushando Potremmo anche andare a salutare mid Diciamo un giro nella giungla Anche se troviamo Nocturne Mami Bella la Q Di paura Aiuti Ma io ho fatto la Q E poi la W Mannaggia la miseria Bastarda Osa raggiungere Ho fatto Q Poi magari Chi si vedrà in live Se l'ho premuta la Q Oppure no Eh Garen Non potrei schivare L'aria di Garen No Ma che la spada Se tu ti abbassi La spada ti va da sopra Champion del cazzo C'ha 9 kill Ma ho ucciso una volta Sì ma perché ha dato 4 kill No cos'è 3 kill Cosa Pellato anch'io le mie kill Quindi Ha ultato Ma ha mancato Buono Questo è positivo Dai Mi faccio Carryare Sto game Non mi andrà mica Bottline A uccidermi Minion Sono io Bott Ma lui Non gliene frega Un cazzo Ah ma doveva Chiedere l'exp Dai Vi lascio la Bottline Tengo in team fight Allora Ah Per giocare In lì sotto Min 2 Sa Ma se c'è anche Darius Forse Ho fatto una play Della madonna Ancora c'è questo Porto Ah Akali però Akali però Uh Uh Il dono Akali god Così si gasa Ok Era facilissimo In realtà Ho sbagliato anche lì Un paio di cosette Ho fatto una roba Ma non era sbagliato Che fossi lì Ho amato mille persone Ho pure fatto doppio stand Con la ulti Ho preso me Non abbiamo nessun drago Nemmeno uno C'è il drago Del Del sapone Il drago Del ventifricio Niente Neanche un drago Abbiamo Non stavo guardando Il pc Mi sa Mi dispiace Ma Il Ok Ullala addirittura Era in dubbio Vaffanculo lava Rubata con costile Aspetta che ora non deve fare la W Ok facciamo se la torre Ok prima la torre ma un occhio Un po' questo tsunami Basta Attacca lì Riesce fare e ulti No ok vuole stare bene safe ci sta Ma me la son creduto un pochino Se la crede ancora Kali Però ora senza la ulti Quindi Era una puttanata Quella che ha fatto No non è che è ancora la R Non si è accorta che aveva il Navori Quello è 14 6 comunque Darius poi incredibile Io ho mid va Tanto bot ormai Darius Se l'ha presa per sé Ha deciso che è così Vogliamo prenderci Lucian E mid Lillo Lillo mi conferma Capì Ecco dove erano Prendiamo Prevolution Continua E' riuscito anche a ultare ma Mi hanno preso tutti i nemici Assist a 5 ho fatto Ho fatto flashare Lux ma Se Brand ulta Qualcosina riesci pure a fare Certo che se flasha a caso Flasha Zonia Buono Ok Darius riesce a fare la Q Che bravo R No Vai Darius Darius Clicca la Q Altra attacca Altra Q Ma ha mancato tutti La ulti non la usa Ha fatto Fioretto Non la può usare L'hai salvato in realtà Manz Ti perdono Ti perdono Questo era figo Logo Ma L'hai salvato L'hai salvato Sì Ok se riusciamo ad avere qualcuno che va a frontliner Ok purtroppo Cali sta speedpushando posso andare top andiamo top anche perché sono tutti quanti andando altrove loro il tempo che si accorgono che siamo top no no pusciamo lillo vedi guarda che positioning di merda con la Luxly ok ok niente non sono riuscito però se in teoria quel brand riesce a fare una cosa buona buona si 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 mi sta continuando a pushare ormai mi sta continuando a pushare ormai stanno facendo quello boom noi abbiamo fatto sprecare flash abbiamo fatto sprecare ultimo abbiamo fatto sprecare tutto prima o poi il cleanse mi ritorna prima o poi il cleanse ritorna urr Q2 come corre Garen cosa sta facendo Darius perché Garen è qui eh quello corre ignoranza che facciamo mancano 400 gold per uh lillo ultima no un po' sarebbe stata un po' happy go lucky un ottimo top voglio fare la sorpresina così uh ma preso sono fottuto bloccato per 2,47 è morto in 2,47 gli altri due sono a fare tutt'altro lo so lillo ho sbagliato una cosa purtroppo io a quanto pare io sono al centro del team non so perché l'assassino sia sempre a speed pushare e il brand il champion da teamfight sia sempre non in teamfight poi so sono in tre vivi non difende uno alla base beh sì ho fatto cazzata io sono preso la ultima faccia beh sono morto di nuovo però almeno mi sono fatto la la GA speravo di vabbè è il loro drago finale questo qui tra un minuto la sua Kali però forse se la fa grazie al tuo no fuggi se riesci vabbè respawniamo bene o male un altro baron ora questa è l'anima ok ok si lillo tu eri fk tutto il file però perché cazzo lo tengo a gioco eh perché non va il drago lillo beh lascialo vuoi competere un drago contro loro posso posso anche lasciare il nexus se vuoi il drago si ma sicuramente dopo il drago è tranquillo che non è che si è messo meglio anche perché sei morto solo tu eh questo muore dei minion sono morto solo io perché devo entrarci dentro eh perché hai provato a entrarci dentro gioco Samurai Arranged ho capito ma non puoi entrare in 1v5 ma infatti sei morto Nocturve tranquillo che è per quello che è morto certo non si è ammazzato ma se si riesce a piccare in maniera sicura eh lui si è top continua a ultare per clearare blocca boom disintegrato ok vai che sono tutti separati Darius guarda ha flashato Darius ha fatto doppio stun non se ne è fregato un cazzo di nessuno noc noc Sì, è vero, ne? Perché la gente non sa chiudere game, quindi il game su è sempre lunghissimo e faticoso. Ma qui c'è sempre uno sconto, adesso prendo. Tipo ora, Kali... Se noi ci addentriamo nel vuoto... Oh! Bene, bene, bene. Ora c'è anche Lux che arriva. Ok... Akali che dovrebbe pushare invece di push, cioè dovrebbe stare secondo me invece di push. Centro! Ok Good job Fami uscire Ok È ancora vivo È ancora vivo Il Un occhio però Io non ci sto Esatto Io push Push Good job Tornato Ma stai ancora streamando? Sì sto facendo una Praticamente una Una maratona Maratona Riot Games Su di me è volta No Nice Mica 5000 gold Top Vai Che vero che loro sono in 4 No noi siamo in 5 No non è vero Se non c'è Darius Barron Very soon Akali è bot Hai vinto qualche tfp poi? Una Ho salvato primo L'ultimo che ho fatto Ho salvato primo Se ho tornato platino 3 Dai Una cosa buona Ehm Qui 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 Ok Aspetta Controlliamo per Che sono morto Mi hai ultato la mia morte Esatto No ma infatti non ha senso Non aveva senso Stare lì In realtà si Era Abbiamo ucciso il jungler Lillo Esatto Eh e voi carri che siete voi Siete morti Fa niente Non c'è più il jungler E tra poco c'è questa cosa qui Ma non possiamo Non possiamo canterare niente Non possiamo fare niente Senza di voi Non possiamo fare niente Frontline è del danno Come lo facciamo? Avete brand E avete Akali Che brand sia incapace Non ho dubbi E allora Devi valutare anche sta volta Quello è vero È morto Brand è morta Akali Non ho capito neanche il perché Ma succede Vabbè Cosa? Non so Mi è stato addosso Noti orne Ma stavo andando Verso Stavo andando in direzione Di coso Ma si era morto Vabbè Ultala wave Dice Tu per nomi Sono live show Sì Da come si può vedere Su discord E' che vero è che loro No Non siamo riusciti a difendere Tu per quanto spawni 10 Sì Loro hanno ancora l'elder E vengono tra i miei tu Rigiù Ma nel tempo Guardami su disco Le commette una sepana circa Che Cos'hai ora? 1.400 Dati di ulti Non è quello il problema Il problema è che hanno l'elder Sì No vabbè Ma non mi ha ucciso l'elder Ma ho ucciso proprio l'ulti Sì sì lo so Ma è late game looks Così fa E non c'è neanche tutta la build Infatti Ora siamo relativamente fottuti L'elder è quasi finito Siamo in 4 e 5 Guarda Dico solo che abbiamo 38 kg E in o 20 Dico solo che l'usufa Ogni secondo Fa danno tutto nostro complessivo E non ha ucciso Sì 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 Darius Dai Darius Dai Darius Dai Darius Non puoi fare Non puoi fare Non puoi fare Ah non posso Ah non posso Sono fermo Sono fermo Cazzo di c***a Io non sono riuscito a non... Oh Dio nice Perdiamo per i minion 45 minuti di parto Mi sa che torno in gold In questa Minchia oggi davvero è una giornata Minchia ma probabilmente era emerald Si ma lo sapevo già No sono ancora platino fortunatamente Sono curioso di vedere i danni Come voleva si dimostrare Eh ma Lux è un mago I maghi funzionano sempre Corona danni No faccio sempre top damage Non è quello il problema Anzi mi sa che lo c'è ne ha fatti più di me Eh si ne ha fatti 500 più di me 507 Danno Eda Bello anche Vai a vedere i tuoi pronomi Sono molto curioso di vedere Che cosa saranno Curo negra Va bene Sono molto contento Che te provoni Sia una cura negra Bene 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 In realtà bene Bene il cazzo In realtà Bene ma non benissimo Che partite di merda Ne ha fatto delle belle giocate Ma alla fine Darius De Mico Qua c'era Luce affidatissima Ma in realtà Luce non è neanche il vero problema No il problema era Garen Che era immortale Faceva un po' di danza Si boom Ehm No certo Ha deciso che è buco Boom Detto ciò Noi ci fiammo il nostro aperitivo Grazie ragazzi Per aver visto questa live Bella Ricompensa No Andrì la capsule È andrì la capsule Con dentro gli Eternals Il cilioge a tutti Vai l'Eternals Qua Due Ma ce n'è un pochino Detto ciò Grazie per aver visto questa live Noi ci vediamo Probabilmente dopo domani Detto ciò That's life That's life Noi ci vediamo 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 Grazie.